Attenzione Omar, guarda dove siamo arrivati oggi, qui in un posto speciale, alla ricerca delle streghe. Ecco Omar, riprendi, abbiamo avuto un permesso speciale per arrivare qui, dopo alcune ricerche abbiamo trovato il masso della Mandringa. Guardate qua, un luogo unico, attenzione Omar, questo masso qua, io ritrovo dove una leggenda parla di streghe, streghe che si radunavano qua, tutte intorno a questo masso, e gioivano, e saltavano, urlavano, e tutta la gente del posto aveva paura. Omar, riprendi, le prime telecamere al mondo che riprendono il masso della Mandringa. Attenzione Omar, riprendi, abbiamo avuto un permesso speciale per entrare dentro il masso della Mandringa. Qua, lì, le streghe venivano per danzare, attenzione Omar, entriamo quasi dentro, ma è pericoloso, attenta la testa Omar, guarda laggiù cosa c'è. Siamo le prime telecamere al mondo che riprendono questo masso. Attenzione Omar, abbiamo avuto un permesso speciale, è il masso della Mandringa, dove le streghe venivano e danzavano intorno a questo masso, e la gente del posto aveva paura perché sentiva le schiamazzi. Attenzione Omar, dopo varie ricerche siamo riusciti a scoprire dove si trova. Mai nessuna telecamera al mondo ha ripreso il masso. Attenzione Omar, ogni sabato sera qui le streghe si riuniscono per festeggiare la loro stregaggine. Eccolo, Omar, riprendi, le prime telecamere al mondo che riprendono il masso. Abbiamo avuto un permesso speciale, solo noi, le prime telecamere al mondo che riprendono questo masso. Guardate bellezza, solo noi abbiamo avuto questo permesso, qui al masso della Mandringa. Mandringa, Mandringa, so una storia io, ma riprendi, siamo nelle zone di Volterra. Le prime telecamere al mondo che hanno ripreso questo masso, dove le streghe urlavano e facevano man bassa di tutta la bassa della man. Auguri a tutti.